Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le possibilità il cartellone degli appuntamenti estivi di Lucignano spazia da momenti culturali a quelli di puro intrattenimento, strizzando l'occhio alle eccellenze enogastronomiche. Un'offerta straordinaria con un comune denominatore, sempre all'insegna della qualità destinata ad un pubblico il più vasto possibile, dai turisti ai visitatori ai cittadini residenti. Un calendario ricco di eventi che riproponiamo come i giovedì di Lucignano, come il Lucignano Music Festival, Lucignano Senzi Amore, ma le nostre letture nel borgo, la stagione teatrale estiva e tanti tanti altri davvero, così come gli eventi della nostra Proloquo, abbiamo appena fatto Cammin Mangiando e chiuderemo proprio l'estate con l'evento clou della Proloquo che è a memoria del passato. Ecco, credo che sarà un'estate straordinaria perché già i numeri ci dicono che veramente l'afflusso di turismo sul Lucignano e sull'intera Valdichiana, su tutto il territorio, è davvero alto e quindi noi vorremmo proporre ai cittadini, ai visitatori, ai turisti un calendario ricco di eventi perché possono ammirare il nostro borgo per le bellezze paesaggistiche, architettoniche, ma anche poi trovare qualcosa di bello da vedere e come sempre anche da assaggiare perché l'enogastronomia la fa da padroni anche dei nostri eventi. Abbiamo voluto dedicare anche una serata ai più piccoli e questo ci sembrava dopo questo lungo stop riportare una festività, una gioia più giovane all'interno del nostro borgo come Luci Park che sarà all'interno del nostro borgo, si trasformerà un po' in un borgo dei giochi. Anche quest'anno riproporremo le letture nel borgo, questa rassegna letteraria che ha avuto davvero un successo strepitoso l'anno scorso nella nostra bellissima piazza San Francesco. Quest'anno la faremo in collaborazione con la Feltrinelli di Arezzo e avremo degli ospiti di calibro nazionale, dei nomi conosciuti ma anche autori locali. Toccheremo tanti temi dalla prevenzione sui tumori al bullismo fino a passare con Veronica Pivetti a un noir comico e chiuderemo la rassenna con il giornalista Luca Sommi che ci porterà un omaggio a Dante Lighieri.